Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Come sarà la vigilia di Natale? La vigilia di Natale, così come queste giornate, le precedenti giornate, saranno caratterizzate da tempo tranquillo, tempo stabile, come potete osservare nella nostra grafica. Il vento freddo si attenuerà anche sulle estreme regioni meridionali, verrà sostituito da aria un po' più mite, ed in effetti in quota le temperature sono aumentate, rischio di foschie e banchi di nebbia, soprattutto verso l'asta del Po, poi tenderà a dissolversi e il cielo sarà in genere in prevalenza sereno, anche se non escludiamo la persistenza di qualche banco di nebbia anche nel corso della giornata. Vediamo le temperature, sempre piuttosto freddo e risveglio, comunque valori o poco al di sotto o poco al di sopra dello zero, temperature massime che invece tenderanno ad aumentare, quindi valori per la vigilia di Natale decisamente accettabili, più gradevoli. Io per ora ho concluso, cari amici, buon proseguimento di giornata e buona vigilia di Natale.